ciao a tutti bentornati sul mio canale youtube oggi farò un video tutorial su come decorare un ciondolo in cristallo occorrente ciondolo di cristallo resina uv colla vinilica pinzette fotocoppie di vari colori disegni di vari colori cavo di acciaio torcia uv passo al tutorial premetto che i cristalli che userò sono stati tirati giù da un vecchio lampadario che dovevo buttare siccome erano belli erano fini e piccoli ho pensato di dargli vita nuova creando appunto dei ciondoli ho ritagliato la carta adesso nella parte retro andrò a mettere la colla vinilica e andrò ad incollare la parte così questo sarà il risultato la colla la diluisco un po con un goccio di acqua non troppo dopo andrò a tagliare i bordi con la taglierina schiaccio bene per evitare che si formino bolle ecco faccio la stessa cosa con la parte superiore del cristallo una volta asciutto rifinisco con il taglierino col cavo d'acciaio faccio un gancio nel buco esistente dopo aver creato il gancio vado con la resina UV e un pennello a fare uno strato sottile esco anche un po fuori dai bordi così si fissa meglio il la carta al vetro ok 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 adesso fisso tutto con la torcia UV una volta fissata faccio la stessa cosa con la parte più piccola del cristallo metto la resina nella parte dietro dove c'è la carta e poi catalizzo con la torcia metto i gancetti anche nella parte superiore e poi assemblo il tutto questo è il ciondolo finito e spero che possa essere utile a qualcuno di voi per riutilizzare dei cristalli che altrimenti buttereste il video è finito se vi è piaciuto mi raccomando mettete un like e iscrivetevi al canale ciao 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 ciao